Buongiorno, buon caffè. Una delle tragedie epocali è quella dello spazio informatico, dello spazio sui computer, dello spazio sui telefoni, dello spazio sui dispositivi. E io, che sono un irrimediabile accumulatore seriale, soffro molto di questo problema. Ad esempio, una delle cose più difficili che mi capita è quella di riuscire a tenere il controllo dell'archivio della posta elettronica, per cui sul mio Mac, che ormai ha anche una certa età, si accumula un numero impressionante di spazio, viene accumulato spazio proprio dovuto a messaggi vecchi o messaggi anche che non ho mai letto, perché automaticamente li archivio in alcune caselle con l'idea, l'intento, l'illusione di poterli un giorno leggere, perché poi abbiamo l'illusione di leggere tutto, in realtà finiscono soltanto per accumularsi, per occupare spazio, per diventare come un cancro che alla fine mangia la memoria del computer. E questo allora mi ha costretto a riflettere. E già, perché un simile problema a volte capita anche nella nostra vita. Accumuliamo cose, accumuliamo sensazioni, accumuliamo esperienze, accumuliamo relazioni, o pseudo-relazioni, delle quali neanche ci ricordiamo. Cioè mettiamo dentro di noi tante cose, e alcune di queste, molte di queste devo dire, in maniera inconsapevole, che alla fine dentro di noi, dentro il nostro hard disk, dentro la nostra memoria, non sto parlando del fisico, sto parlando più degli aspetti psicologici, spirituali, finiscono per diventare come una massa ingombrante, una massa che pesa, una massa che fa tanta ostruzione da renderci la vita difficile, da toglierci lo spazio, da toglierci il respiro. Perché nulla di quello che mandiamo dentro è ininfluente, nulla di quello che mettiamo dentro di noi non lascia traccia. Noi diventiamo quello che in qualche modo ingurgitiamo, in questa modalità, così a volte inattesa e in compresa. E dovremmo farci proprio qualcosa. Come ad esempio, vegliare di più, vegliare di più, su quello che mandiamo dentro. Buongiorno e buon caffè.